benvenuti cari amici in questa nuova stesa ma prima di iniziare questo interattivo vi ricordo che nella descrizione al video trovate le indicazioni per richiedere un consulto privato e anche l'indirizzo internet dove potete acquistare le guide pratiche per chi si vuole avvicinare allo studio della cartomanzia e anche l'acquisto dei mazzi di tarocchi che via via io utilizzo per le varie letture e che vi propongo sempre in questo canale prima di ogni interattivo con dei brevi video illustrativi. Oggi andremo a vedere una domanda tipica che viene fatto alla cartomante ovvero che cosa pensa questa persona di me che cosa prova per me se succederà qualche cosa farà di noi quindi vediamo nelle tre varianti che vi propongo prima seconda o terza che cosa succede buon ascolto. Ragazzi che avete scelto la prima variante da una prima occhiata nella riga in alto cioè che cosa pensa di me e così a vederle queste carte inizialmente che sono per la maggior parte rovesciata e in questo momento non ha proprio un pensiero molto positivo di voi a parte questa carta dell'arcano della forza a dritto che comunque vi vede delle persone molto capaci e in gamba di arrangiarsi nella vita e avere sempre la meglio però da quello che si capisce dalle altre carte qui è una persona ferita è una persona che voi siete riusciti a far soffrire soprattutto con questo tre di aria quindi si sente una persona tradita si sente una persona che non è più corrisposta quindi qui stiamo parlando di un rapporto in cui probabilmente voi avete ribaltato la frittata su questa altra persona e siete riusciti a farlo sentire o farlo sentire esattamente come questa persona vi ha fatto sentire con questo 5 di terra ci dice che comunque qualcuno che ha realizzato che voi in questo momento non lo pensate non li volete bene e quindi si sente particolarmente abbandonato e solo mentre quello che ci dice la carta del re di aria insieme a quello del fante di acqua qui è una persona che adesso è anche un po' arrabbiata con voi è una persona che pensa guarda un po' questa o questo è stato qualcuno che si è dimostrato sempre affettuoso sempre gentile è tutto ad un tratto invece si rivela per l'esatto opposto quindi è decisamente sconcertato non se lo aspettava da voi e se l'effetto che volevate ottenere era quello di far sentire questa persona in difetto come probabilmente è toccato a voi prima direi che in questa stesa ci siete riusciti benissimo e questo vostro cambiamento lo ha portato a provare la carta del giudizio quindi è una persona che adesso sta scoprendo che è molto attratta dalla vostra personalità e che i sentimenti che magari nascondeva prima che cercava di far finta di non avere adesso stanno emergendo tutti quanti però voi siete nella posizione della regina di terra rovesciata quindi non siete più favorevoli a questa persona anzi siete qualcuno che vuole in tutti i modi dimostrargli che non può più contare su di lei quindi quello che sta provando in questo momento è una gran confusione e anche dispiacere perché qui ha capito che come sono andate le cose vi ha portato a diventare delle persone sospettose e che non si fidano più assolutamente di lui o di lei e hanno messo un certo distacco tra di voi e con questo due di coppe rovesciato ed è anche particolarmente geloso di voi e pensa che voi adesso vi siate allontanate perché magari avete qualcun altro e invece la sua vita privata e intima è molto insoddisfacente quindi è lì che pensa a voi che cosa state facendo con chi siete si sta facendo un sacco di pippe mentali di illusioni su di voi vista anche attribuendo magari una vita sessuale più attiva della sua ed è anche parecchio invidioso di questo quindi in realtà ha scoperto o riscoperto il fatto che comunque vi vorrebbe soprattutto vorrebbe proprio un rapporto a 360 gradi con voi quindi vivervi pienamente però da un'altra parte capisce che ormai è anche abbastanza tardi e che quello che può può fare ora è sognarvi ed essere geloso e quello che intende fare rappresentato dalla carta della torre rovesciata quindi questa persona veramente arriverà al culmine delle sue paranoie saranno così tante che non riuscirà proprio a sopportarle più di pensare a voi praticamente quindi cercherà proprio di imporsi di smetterla di pensarvi e la carta dell'oracolo che ci dice che si deve prendere una pausa si deve riposare e rilassare perché è fondamentale ci racconta che comunque quello che lui vuole interrompere in questo momento è proprio questo pensiero fisso che ha su di voi e cercare di ritrovare un pochino di calma di serenità con se stesso o se stessa sostanzialmente voi siete diventate il suo chiodo fisso però è un chiodo fisso che non lo spinge all'azione ma lo spinge a un logorio mentale quindi lui per forza o lei comunque devono arrivare a questo stacco e a questo riposo perché l'unica cosa che gli sta facendo fare tutto questo pensare è andare a essere ancora più geloso e invidioso della vostra nuova vita quello che ha capito sostanzialmente che comunque in questo momento è meglio che non si faccia vivo con voi perché non farebbe altro che mostrarvi le sue debolezze e soprattutto il fatto che è particolarmente geloso di voi e questo potrebbe anche farvi scappare ancora di più e vi riconosce anche il fatto che vi siete allontanati e che questo era qualcosa che vi faceva bene quindi non vi vuole neanche inseguire in questo momento finché magari non li date un cenno voi sa benissimo che si rifà avanti adesso in questo momento con questo stato d'animo che sta vivendo potrebbe peggiorare le cose farle diventare ancora più negative perché comunque quello che sta pensando in questo momento è al massimo un incontro in cui sputare una serie di sentenze e non vuole assolutamente correre questo rischio di andare a sprecare anche un'ultima occasione che potrebbe avere con voi quindi ragazzi che avete scelto la prima variante qui se avete messo questo distacco con la persona a cui pensate e l'effetto che volevate ottenere era di mandare questa persona in paranoia a pensarvi continuamente beh qui direi che ci siete assolutamente riusciti per ora qui non ci saranno dei contatti perché comunque la torre ad ogni modo rappresenta un tempo molto breve qui parliamo di due massimo quattro settimane in cui questa persona ancora non non si farà viva ma cercherà in tutti i modi invece di staccare il pensiero da voi per riuscire a trovare una modalità un pochino più serena magari per farsi avanti un po più avanti per farsi avanti con voi tra un po di tempo quindi ragazzi voi state sereni perché comunque avete intrapreso una strada che vi piace vi fa stare molto meglio ecco poi si vedrà che con questa persona che cosa intende fare un po più avanti magari però quando avrà cambiato stato d'animo bene io adesso passo alla seconda variante amici che avete scelto la seconda variante qui la situazione fra di voi ultimamente è cambiata diciamo che siete cambiati proprio voi che state guardando la stesa qui vi avete fatto capire che certe cose fra di voi non vi stavano più bene quindi questo vostro cambiamento ha portato in lui o lei una certa delusione e un certo pensiero negativo adesso vi vede come delle persone che corrispondono a questo sei di terra rovesciato quindi una persona che non è più disposta a dare senza ricevere niente in cambio siete diventati delle persone che soppesano quello che succede e vogliono avere dei risultati allora qui poi il sei di fuoco ci racconta che comunque tra di voi gli incontri non sono finiti oppure se siete una coppia ormai da tempo non avete smesso di fare delle cose insieme tipo delle uscite delle gite continuate a farle però quello che adesso pensa questa persona di voi è il 5 di acqua quindi nonostante abbia ancora una situazione abbastanza positiva con voi è come se fosse insoddisfatto non riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno guarda sempre le cose che non funzionano piuttosto di focalizzarsi su quelle su quelle che invece vanno bene questo vostro cambiamento di rotta in cui non siete più disponibili semplicemente a dare senza pretendere niente in cambio l'ho abbastanza sconcertato e non gli sta particolarmente bene e anche quello che prova per voi è mutevoli praticamente a giorni alterni a giorni alterni vi vuole molto bene e in altri invece è un po' arrabbiato con voi questo re di aria rovesciato ce lo racconta come una persona che sia un po' indurita un po' incattivita nei vostri confronti che pensa che non siate effettivamente quello che mostrate non siate più la persona gentile onesta e generosa di prima quindi diciamo che a fasi alterne vi dimostra il suo interesse e suo apprezzamento e poi in altre giornate è un pochino come se volesse farvi pagare qualche cosa volesse farvi pagare il fatto che voi non siate più così totalmente disponibili le sue intenzioni adesso sono quelle del re di terra quindi lui vorrebbe cercare di fare un tentativo con voi che è quello di mostrarsi esattamente quello che voi cercate da tempo ovvero un uomo stabile un uomo molto affettuoso premuroso e anche una persona in grado di portare avanti un po' tutto da una relazione sentimentale alla sua vita lavorativa quindi una persona in grado di dimostrarsi diciamo così molto equilibrata e qualcuno su cui poter contare anche a livello economico lui vuole fare questo tentativo a vedere se recupera con voi il terreno perso questa persona vorrebbe dare una sferzata di energia al rapporto e vedere che cosa riesce a ottenere da voi adesso con la carta dell'oracolo che si intitola il nuovo amore questa persona cercherà magari di coinvolgervi in una nuova avventura per vedere un po' se riesce a risollevare le sorti di questo rapporto che pensava già che stasse finendo quindi che fosse già in dirittura di arrivo che non ci fossero più cose entusiasmanti con voi che potessero di nuovo coinvolgerlo cercherà di coinvolgervi in qualcosa di nuovo magari anche con la collaborazione di qualche amicizia quindi magari possibile fare un viaggio all'avventura in gruppo quindi vorrà assolutamente movimentare la situazione quindi cari ragazzi che avete scelto la seconda variante se questa insoddisfazione che avevate dentro questa relazione era dovuta al fatto che magari vi sentavate vi sentivate frustrati perché non ricevevate altrettante attenzioni altrettanto impegno in cambio questa persona adesso vorrà almeno fare un tentativo con voi e dimostrarvi che ci tiene altrettanto e che vuole fare cose sempre nuove divertenti insieme a voi se invece la vostra insoddisfazione vi ha così allontanato da andare magari a cercare un'altra compagnia e quindi questa persona adesso sta facendo questo ultimo tentativo ecco da qui in poi sta a voi e la scelta se continuare a rimanerci insieme magari nella speranza che questa nuova ventata di energia continui nel tempo e non sia solo una meteora altrimenti se avete già deciso ovviamente per un'altra tipologia di vita un'altra tipologia di persona ecco questo tentativo che vorrà fare sarà solo una goccia nel mare quindi magari neanche non cercate di illudere questa persona dandogli la falsa speranza che questo suo nuovo tentativo possa essere la svolta per voi quindi decisamente sta a voi in questo caso decidere che cosa voler fare bene ragazzi ora io passo alla terza variante ragazzi che avete scelto la terza variante qui la stesa si apre con la carta del papa rovesciato quindi qui già ci danno un'indicazione precisa su quello che questa persona sta pensando di voi ovvero che siete diventati nei suoi confronti delle persone molto formali che adesso non volete assolutamente più essere disponibili in modo così amichevoli con lui o con lei ma anzi grazie a questo otto di acqua voi vi siete allontanati recentemente da questa persona avete capito che diciamo così dall'icorda non vi fa bene perché non vi comprende questa persona vi tratta un pochino come se foste insomma un'amicizia né più nemmeno invece voi avete voluto distinguere bene le cose e farli capire che con voi non si scherza infatti qua voi avete proprio diciamo intavolato un nuovo programma di vita avete iniziato a sviluppare delle nuove amicizie dei nuovi interessi con questo asso di acqua e dieci di terra qua voi vi siete circondate di persone nuove con cui vi trovate molto bene con cui fate delle belle uscite con cui vi sentite in armonia e queste persone vi apprezzano e vi vogliono bene e in più lui o lei adesso sanno benissimo che insieme a questa nuova compagnia di persone da cui siete circondate voi parlate abbastanza male di lui o di lei con questo 8 di aria quindi adesso lui sa benissimo che state facendo dei pettegolezzi su di lui o comunque di lei e quindi lo avete praticamente bloccato non sa adesso più che pesci prendere con voi il vostro distacco e la vostra voglia di mettere i puntini sulle i quello che gli ha scatenato è il fatto di capire che lui o lei prova veramente qualcosa per voi e quello che prova è è dettato da una fortissima attrazione quindi è una persona che non vi vuole perdere in questo momento anche se è ancora arrabbiato per come lo state trattando però quello che prova adesso è una fortissima voglia di mandare avanti la relazione con voi non solo di avanti ma proprio di riprenderla in mano di ripristinarla con tutto l'entusiasmo e l'energia che aveva un tempo e con questa carta dell'imperatrice e qui i tarocchi ci dicono che questa persona si ripresenterà a voi con un nuovo e insolito slancio vi farà capire che è veramente attratto da voi che la vostra presenza lo rende entusiasta della vita e che vi apprezza molto sia a livello caratteriale che proprio estetico quindi sicuramente si rifarà avanti e con la carta oracolo che si intitola ascoltare con il cuore la sua intenzione di rifarsi vivo è dettato proprio da questo sentimento che è riscoperto per voi a differenza di prima quando probabilmente voi vi siete dichiarati e gli avete fatto presente che provavate un sentimento adesso questa persona si metterà nella posizione di ascoltarmi di ascoltarmi veramente in precedenza aveva deciso di non ascoltarmi proprio perché aveva paura delle vostre emozioni e anche delle sue adesso però vorrà fare questo sforzo di farvi vedere che è ben disposto a capire che cosa provate e a capire anche che cosa prova lui o lei per voi e quindi lasciar fluire poi le cose con serenità nel corso che vorranno prendere quindi ragazzi della terza variante se il vostro intento di allontanarvi e farvi vedere in compagnia di qualcun altro era quello di svegliare questa persona ricontattarvi e farvi dire che cosa prova per voi sicuramente qui avete fatto centro e questo succederà altrimenti se la vostra lontananza è stata frutto del fatto che ormai ne avevate talmente piene le scatole e adesso questa nuova serenità che avete trovato con magari anche delle nuove amicizie non la volete perdere ecco valutate bene se permettere a questa persona di fare di nuovo capolino nella vostra vita e anche soprattutto nel momento in cui farà questo tentativo non solo ascoltate che cosa prova ma chiedetele anche quali sono le sue intenzioni future perché se ovviamente questo incontro poi si va a spegnere nuovamente voi rimanete di nuovo incastrati nella speranza che questo rapporto sbocci ecco allora magari sarebbe anche meglio rimanere nella nuova serenità che avete trovato ecco comunque in questa stesa dipende assolutamente tutto da voi perché una seconda occasione ce l'avrete ascoltate anche voi come dice la carta consiglio il vostro cuore e poi vedete che cosa succede bene ragazzi noi ci vediamo alla prossima stesa ciao a tutti